Ti ringrazio per aver accolto ancora una volta il nostro invito. Maurizio mi ha appena fatto una dichiarazione d'amore, ma ne portiamo come un pazzo. Non poteva esimersi. Questo disco in verità è veramente una dichiarazione d'amore, perché è un po' come un fotoromanzo. Racconta tante storie d'amore diverse, c'è quella drammatica, quella ironica, quella intensa, quella mistica. È proprio la caratteristica di questo disco, di come è costruito. Grazie a tutti.